Beh sì, oggi diciamo abbiamo aperto, è stata aperta la piattaforma di poste sugli over 40 e già nelle prime ore c'è stata una grande richiesta e quindi vuol dire che c'è tanta voglia di vaccinare, la vaccinazione è partita, di vaccinarsi, la vaccinazione è partita e continuiamo a vaccinare anche le altre categorie, quindi gli over 50 ovviamente, gli over 60, gli over 70 e anche gli ottantenni sugli ottantenni, siamo davvero diciamo alle ultime fasi, stiamo continuando a completare la vaccinazione dei domiciliari e di qualche ritardatario, ma parliamo veramente di numeri piccoli. Giugno ai sedicenni? I giovani? Ma adesso questo dobbiamo vedere, insomma ripeto la pianificazione spetta al generale Figliuolo, io come referente regionale devo seguire ovviamente quello che è generale, l'indicazione del generale e poi riportarli insieme alle alz sul territorio, però è chiaro che insomma mi sembra che si stiamo avvicinando a grandi passi a quella che sarà la vaccinazione di Mazda, perché nel giro di poche settimane siamo passati all'apertura dei cinquantenni, poi dei quarantenni e quindi adesso non resta che le categorie diciamo poi dai 16 anni in su, quindi diciamo la vaccinazione è aperta a tutti, aspettiamo le indicazioni, ma noi siamo comunque pronti, per vaccinare servono i vaccini, ma insomma la pianificazione che il generale fa la fa in base ai vaccini che arrivano, per cui se si aprono gli slot saranno i vaccini, ma già si vede diciamo già dei primi di giugno Pfizer aumenta di un 60% le dosi che arriveranno nella nostra regione, questo è già un primo segnale, ma insomma io so che a giugno i vaccini arriveranno e arriveranno in quantitativi importanti, noi siamo pronti, abbiamo dimostrato di essere capaci di vaccinare 600, 700, 800 vaccini al giorno sopra il target, fino a 15.000 a livello regionale, per cui insomma non credo che ci siano problemi da questo punto di vista, oramai la struttura è rodata, è pronta, insomma è in grado di vaccinare un numero importante di cittadini.